Dovrei fare il filmino se non ho sbaglio, lo aspettiamo che esce il filmino, quindi qui è un giro, è un giro, è un giro, è un giro, è un giro in giro, come la frenata se lo ammorbidisco la frenata migliora sai perché discorso la spinta ti ricordi l'unica non fa così tac eh Come? Come ti sembra? Cosa? Tu non toccava adesso il cibo Suo sai la scampetta Buono Secondo me non va male? No Voi lo sapete perché io non me ne intendo Poi la registrazione ci vuole un po' di tempo Oh queste sono state le prime Stiamo avendo un risultato con la prima registrazione Vedi l'acqua ha derappato ma poco Eh perché morde Ecco c'è il cazzo che non va avanti Alla po' Alla po' come esce piatto l'inclinazione Guarda Guarda che bello Perché morde Vedi che sta lì Però ci manca il motore a sto caro qua Vedi ma va forte eh lui Ma io sono contento perché ho capito che possiamo fare quello che vogliamo No 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 Complimenti Come? Complimenti Eh bene Non dovrebbe provarlo adesso in pista In pista che almeno riesce a buttare dentro la guardia Come faccio io a fermarlo sto Cristo qui adesso? Schiaccio qua non vuoi? Vedi hai visto come lo tiene giù? Alla po' Alla po' Alla po' Alla po' Alla po'